Un saluto a tutti, voglio farvi i miei più sinceri auguri di Buon Natale, quest'anno abbiamo avuto una città più pulita, più accogliente, più sicura, c'è tanto ancora da fare per l'anno prossimo, il nostro impegno sarà massimo, ma ho bisogno anche del vostro aiuto, soprattutto del vostro aiuto, tutti insieme noi cittadini possiamo collaborando raggiungere risultati a oggi insperati, io ci credo fortemente. Un'altra cosa importante, non dobbiamo dimenticarci delle persone che sono rimaste più indietro, oggi va a loro il nostro pensiero, un augurio speciale proprio per loro e uno sforzo in più il prossimo anno per portarli al pari con gli altri. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno a Natale è il bene degli altri, voi avete il mio auguri.